Non è assolutamente vero che l'altra sera in Consiglio Comunale la maggioranza non ha voluto trattare la mozione sui distacchi fognari. Il punto non è stato discusso perché i consiglieri di opposizione avevano abbandonato l'aula. È così che ieri i consiglieri comunali di Ribera che sostengono l'amministrazione Pace hanno replicato alle accuse mosse nei loro confronti dai colleghi della minoranza. Consiglieri di opposizione che oggi tornano sull'argomento per spiegare le ragioni per le quali mercoledì scorso hanno abbandonato Sala Frenna. Io personalmente ho chiesto il prelevo di una mozione che riguardava la possibilità da parte del sindaco di dare un indirizzo al sindaco affinché facesse un'ordinanza che vieti i distacchi fognari a Girgenti Acque. Consiglieri che il prelevo è stato chiesto a mezzanotte, vi erano ancora altri dieci punti da trattare e quindi ritenevamo che difficilmente si poteva arrivare a trattare questo punto e ritenevamo che era importante per dare tranquillità ai cittadini. Su questo la maggioranza non è stata d'accordo, hanno bocciato il prelevo e noi per protesta poi abbiamo abbandonato l'aula. Quindi adesso ho letto qualche comunicato di maggioranza che si difendono dicendo che per colpa nostra non si trattava il punto perché arrivati poi all'undicesimo punto loro non l'hanno trattato perché mancava l'opposizione. Ma è andata così solo esclusamente perché dopo il nostro abbandono il Consiglio Comunale senza un dibattito, senza un'opposizione si è fatto in maniera veloce, hanno trattato dieci punti poi in venti minuti. Sicuramente con la nostra presenza non si sarebbe riuscito ad arrivare all'undicesimo punto e non sarebbe stato neanche corretto arrivare a tardanotte a trattare un punto così importante e qualificante. Il giorno 28 ci sarà il Consiglio Comunale nuovamente. Penso e spero che comunemente approveremo una mozione che vinca il sindaco a mettere questa ordinanza. Quindi non penso che ci sia una ragione particolare, non so se è per tratticismo quali sono state le ragioni. Spero che tutti insieme possiamo approvare questa ordinanza che è nell'interesse di tutti i cittadini. Ma al centro delle polemiche rimane anche la Costituzione della Società Ribera Ambiente che gestirà in house il servizio rifiuti. E' il consigliere Emanuele Livoti a ribadire oggi che il punto necessitava di ulteriori approfondimenti e ad accusare l'amministrazione comunale di atteggiamento arrogante rispetto a tematiche importanti come la gestione del servizio rifiuti. Ribadiamo che era un tema molto importante che andava discusso e bisognava soprattutto confrontarsi con i cittadini sulla gestione di un'importante tassa sui rifiuti perché questa società gestirà appunto la raccolta dei rifiuti di questa società dal nome Ribera Ambiente per un lungo periodo gravando sulle tasche dei riberesi. Anche perché bisogna confrontarsi con i cittadini perché l'amministrazione pace e la sua maggioranza si stanno contraddistinguendo per l'arroganza di far prevalere la logica dei numeri e non sentire veramente, ascoltare l'esigenza dei cittadini. La nostra posizione sarà quella appunto di vigilare su qualsiasi scelta che questa società andrà a fare. E diventano nove i consiglieri di opposizione al Consiglio Comunale di Ribera, formalizzata oggi la nascita di un coordinamento denominato Giù le Mani da Ribera di cui fa parte anche il consigliere Quartararo, eletto due anni fa tra le fila della maggioranza da cui poi ha deciso di prendere le distanze dichiarandosi indipendente. Abbiamo ritenuto dopo l'ultimo Consiglio Comunale che sia necessario un'azione più coordinata, più sinergica, più decisa di tutta l'opposizione e salutiamo veramente con piacere il fatto che ci sia un consigliere di maggioranza del dottore Quartararo che ha ritenuto, ha maturato sicuramente in questi mesi, ma l'ultimo Consiglio Comunale è stato magari la goccia che ha fatto roboccare il vaso di voler aderire a questo nostro coordinamento, un'unione di identi chiamata e denominata Giù le Mani da Ribera che si prefigge lo scopo di costituire un'opposizione proprio coesa e che vigilerà in maniera sinergica, in maniera decisa su tutto l'operato dell'amministrazione, rendendosi anche disponibile a un confronto o dialogo sui temi più importanti anzi sperando di essere coinvolti nelle scelte più importanti che riguardano il paese di Ribera. Ricordo che si parla di 9 consiglieri su 20 quindi che hanno anche un peso politico importante conservando ognuna le proprie identità partitiche, politiche e personali.